Il giorno dei cacciatori Cominciò e finì la sera stessa, ma continua a tormentarmi. Non posso fare a meno di pensarci. Dovete sapere che Joe Block, Ray Manning e io ce ne stavamo stravaccati intorno al nostro tavolo preferito in un angolo del bar con un'ora vuota davanti e un sacco di chiacchiere per riempirla. Questo è il principio. Joe Block diede l'avvio alla conversazione parlando della bomba atomica e di quel che pensava che se ne sarebbe dovuto fare. Cinque anni prima, disse, chi mai ci avrebbe pensato? E io ribattei che anche cinque anni prima ci pensavano in molti e ci scrivevano su delle storie, ma adesso chissà che fatica dovevano fare per non restare indietro rispetto a quello che pubblicavano i giornali. Ray disse di aver sentito da qualcuno che un capoccione di scienziato aveva mandato un pezzo di piombo indietro nel tempo per un paio di secondi o due minuti o due millesimi di secondo, non ricordava bene quanto. Disse che lo scienziato non ne parlava a nessuno perché secondo lui nessuno ci avrebbe creduto. E allora io gli chiesi con molto sarcasmo come faceva a saperlo. Ray ha un mucchio di amici, ma io li conosco tutti e so che nessuno di loro conosce scienziati. Ma lui disse che non importava come l'aveva saputo, lui la vendeva come l'aveva avuta, prendere o lasciare. E poi non si poteva fare altro che continuare a parlare delle macchine del tempo e di cosa sarebbe successo se uno andava nel passato e ammazzava suo nonno o perché nessuno veniva dal futuro a raccontare chi avrebbe vinto la prossima guerra o se ci sarebbe stata un'altra guerra o se ci sarebbe rimasto su una terra un posticino abitabile dopo la guerra, chiunque l'avesse vinta. A Ray sarebbe piaciuto sapere chi, per esempio, avrebbe vinto la settima corsa mentre si stava ancora correndo la sesta. Ma Joe aveva qualche altra cosa in testa. «Voi due pensate solo alla guerra e alle corse», disse. «Io sono curioso. Sapete cosa farei se avesse una macchina del tempo?» E allora dicemmo che ci interessava saperlo, pronti a prenderlo in giro qualunque cosa dicesse. «Se avessi una macchina di quelle», disse lui, «tornerei indietro di due, cinque o cinquanta milioni di anni per scoprire come sono finiti i dinosauri». Questo era troppo perché secondo me e secondo Ray era una cosa completamente priva di senso. Ray disse che a nessuno importava un cavolo dei dinosauri e io dissi che l'unica cosa a cui servivano era mettere insieme degli scheletri per chi era così stupido di passare il tempo consumando le suole delle scarpe sui pavimenti dei musei. E poi avevano fatto bene a scomparire per lasciare posto agli uomini. Naturalmente Joe commentò che, se pensava a qualche essere umano di sua conoscenza e ci guardò fisso, avrebbe preferito che fossero rimasti i dinosauri. Ma noi non gli badammo. «Voi, testa di cavolo, potete prendermi in giro finché volete e credervi degli intelligentoni, ma sta di fatto che non avete un briciolo di fantasia», disse. «I dinosauri erano dei bestioni grandi come case e stupidi e ce n'erano a milioni dappertutto. E poi, un bel giorno, Zack fece schioccare le dita. Ecco che scomparvelo di punto in bianco. E lui voleva sapere come. Stava intanto finendo la birra e faceva segno a Charlie che gliene portasse un'altra, mostrando una moneta per dimostrare che aveva intenzione di pagarla. «Non so», disse scrollando le spalle, «però ci dovrebbe essere un sistema per scoprirlo». Questo è tutto. Il discorso avrebbe dovuto finire lì. Forse io avrei detto qualcosa, Ray avrebbe aggiunto uno dei suoi commenti e avrei moscolato un'altra birra e parlato magari del tempo e dei Brooklyn Dodgers e via dicendo, senza mai più pensare ai dinosauri. Invece non andò così. E adesso io non faccio altro che pensare ai dinosauri e mi sento male. Perché il tipo sbronzo, seduto al tavolo vicino, guarda su e fa «Ehi». Noi non l'avevamo visto. Di regola non facciamo caso agli sconosciuti che si sbronzano nei bar. Ce ne sono troppi e abbiamo già abbastanza da fare per badare a quelli che conosciamo. Il tipo in questione aveva davanti a sé una bottiglia vuota a metà e teneva in mano un bicchiere mezzo pieno. «Ehi», disse. E noi lo guardammo. E Ray disse «Chiedigli cosa vuole, Joe». Joe era il più vicino, inclinò la sedia all'indietro e disse «Cosa volete?» «I signori stavano forse parlando di dinosauri?» disse l'ubriaco. Era appena un po' partito e aveva gli occhi rossi come se sanguinassero e si capiva che la sua camicia era stata bianca in origine, solo tirando a indovinare. Ma mi aveva colpito il suo modo di parlare. Non era da ubriaco, non so se mi spiego. Comunque Joe decise di dargli corda e disse «Sicuro, perché vi interessa?» Lui ci sorrise. Un sorriso buffo. Cominciava dalla bocca e finiva giusto sotto gli occhi. «Volete costruire una macchina del tempo e tornare indietro per scoprire cosa ne è stato dei dinosauri?» ci domandò. «Penso che Joe prevedesse una bella chiacchierata con quello svitato e io pensai che ci sarebbe stato da divertirsi. Perché?» disse Joe. «Avreste intenzione di fabbricarne una per me?» L'ubriaco mise in mostra i suoi denti guasti e rispose «No, signore. E sapete perché? Perché un paio d'anni fa mi fabbricai una macchina del tempo e andai nel mesozoico e scoprì come finirono i dinosauri?». In seguito imparai come si scrive il mesozoico. Per questo adesso l'ho scritto giusto, casomai vi siate meravigliati, e ho scoperto che l'era mesozoica è quella in cui i dinosauri vivevano e facevano quello che fanno i dinosauri. Ma naturalmente quella sera la parola non mi diceva niente e pensai che quel tipo fosse matto. Dopo Joe insistette a dirci che lui sapeva tutto del mesozoico, ma ha dovuto sudare mica poco per convincere me e Ray. Comunque questo non c'entra. Dicemo all'ubriaco di venire al nostro tavolo. Pensavo che avremmo potuto continuare a dargli corda per un po' e magari scolargli la bottiglia. Così credo che la pensassero anche Joe e Ray, ma lui, quando venne a sedersi con noi, portò sì la bottiglia, però continuò a tenersela sempre stretta. «Dove avevate costruito quella macchina del tempo?» gli chiese Ray. «Alla Midwestern University. Ci lavorai insieme a mia figlia. A quanto pare, dunque, era un professore. E adesso dove l'avete messa? In tasca?» Lui non batte ciglio. Non fece una piega a vederci soghignare. Continuò a parlare a voce alta, da solo, come se il whisky gli avesse sciolto la lingua e facesse lo stesso che noi ci fossimo o no. «L'ho distrutta», disse. «Non la volevo più. Basta». Naturalmente non ci passò neanche per l'anticamera del cervello di credergli. In casi del genere, comunque, è meglio far finta di niente. Era impossibile che dicesse la verità, perché se uno ha inventato la macchina del tempo può far milioni, può diventare padrone del mondo. Basta che si informi degli andamenti della borsa, delle corse e delle elezioni. Possibile che un tizio rinunciasse a tutto questo, qualunque fosse il motivo che l'aveva spinto? E poi noi non volevamo credere ai viaggi nel tempo, perché se uno avesse ammazzato il proprio nonno, cosa sarebbe successo poi? Beh, questo non c'entra. «Già, già, l'avete distrutta», disse Joe. «Ma sicuro? Come vi chiamate?». Lui non rispose. Glielo chiedemmo altre volte e, siccome non ce la volle mai dire, finimmo col chiamarlo professore. Vuotò il bicchiere e tornò a riempirlo, molto lentamente. Non ci offrì da bere e noi ci accontentammo della birra. «Avanti allora», disse io. «Cos'è successo ai dinosauri?». Ma evidentemente lui non aveva intenzione di dircelo subito. Pisava il centro del tavolo e cominciò a dire «Non so quante volte che Erol mi avesse mandato nel passato, di pochi minuti o qualche ora, prima che mi decidessi a fare il grande salto. Non mi interessavano i dinosauri. Volevo solo vedere fin dove poteva portarmi la macchina con l'energia di cui disponevo. Forse era pericoloso, ma la vita è poi così bella? C'era la guerra. Un'altra vita?». Stringendo fra le mani il bicchiere, pareva che pensasse alla vita in generale. Poi tornò a bomba e disse «C'era il sole. Era una splendida giornata, calda e asciutta. Non c'erano paludi né felci, insomma niente di quel contorno ambientale con cui di solito immaginiamo i dinosauri. Mi pare che dicesse proprio così. Non sempre afferravo i paroloni scientifici, per cui debbo contentarmi di quel che ricordo. Ho controllato sul dizionario e devo ammettere che, nonostante tutto, l'alcol che aveva ingurgitato, la sua pronuncia non faceva una grinza. Fu forse questo a darci da pensare. Sembrava che se ne intendesse sul serio, tutta quella roba che gli usciva di bocca con una tale naturalezza. «Era un periodo tardo», continuò, «di sicuro il Cretaceo. I dinosauri erano già in via d'estinzione, tutti quanti salvo quelli piccoli, con le loro cinture di metallo e le armi». Vidi letteralmente il naso di Joe affondare nella birra quando il professore pronunciò queste parole con una certa malinconia. «Quali piccoli?» strillò Joe come un matto. «Quali cinture di metallo e quali armi?» Il professore lo guardò per un secondo prima di tornare a scivolare nel nulla. C'erano dei piccoli rettili, alti poco più di un metro, che se ne stavano ritti sulle zampe posteriori, appoggiandosi sulla coda spessa, e avevano delle braccine con le dita in fondo, e tenevano affibbiate intorno alla vita delle cinture di metallo da cui pendevano le armi, ma non di quelle che sparano pallottole. «Erano proiettori di energia». «Erano cosa?» chiesi. «E dite, tutto questo quando avveniva? Milioni di anni fa?» «Sì, signore», disse lui. «Erano rettili, avevano scaglie ed erano sprovvisti di palpebre, e probabilmente deponevano uova, ma disponevano di armi a energia. Ce n'erano cinque. Mi furono addosso non appena uscì dalla macchina, dovevano essercene a milioni sulla terra, milioni sparsi dappertutto. A quel tempo dovevano essere loro i padroni del creato». «Credo che fu allora che Ray pensò di averlo preso in castagna, perché gli si accese negli occhi quello sguardo che fa venire voglia di rompergli un boccale vuoto in testa, vuoto perché sarebbe un peccato sprecare la birra. «Milioni, eh, professore?» disse. «E come la mettiamo con quei tizi che vanno in giro a cercare e dopo aver trovato un mucchio di vecchie ossa le mettono insieme e dicono che quelli erano i dinosauri? I musei sono pieni di quegli scheletri, no? Beh, non ne ho mai visto nessuno con una cintura di metallo. Se ce n'erano a milioni, dove sono andati a finire? Dove sono le ossa?» Il professore sospirò. Era un sospiro sincero, pieno di tristezza. Forse si stava rendendo conto solo allora che parlava a tre tizi in tuta, in un bar, o forse se ne infischiava. Si trovano pochi fossili. Pensate a quanti animali vissero sulla Terra. Miliardi di miliardi. E pensate a quanto pochi sono i fossili che troviamo. E quelle lucertole erano intelligenti. Non dimenticatelo. Non erano tipi da lasciarsi cogliere impreparati dal gelo o dalle inondazioni e non cadevano nei torrenti di lava, salvo che in caso di incidente. Pensate a quanti pochi uomini fossili abbiamo trovato. Anche gli uomini scimmia subumani di un milione di anni fa. Guardò il bicchiere mezzo pieno, facendolo rigirare. «E poi cosa dimostrerebbero i fossili?» Continuò. «Le cinture di metallo sono state corrose e consumate dalla ruggine. Quelle piccole lucertole erano animali a sangue caldo. Io lo so, ma non sarebbe possibile provarlo con qualche osso pietrificato. Che diavolo! Fra un milione d'anni, chi sarebbe in grado di dire com'era New York partendo da uno scheletro umano? Esaminando nelle ossa, sareste in grado di distinguere un essere umano da un gorilla e indovinare quale dei due costruì la bomba atomica e quale mangiava le banane allo zoo?» «Ehi!» disse Joe, che aveva molte corde al suo arco. «Chiunque riuscirebbe a distinguere uno scheletro umano da quello di un gorilla. L'uomo ha il cervello più grosso. Chiunque potrebbe dire chi dei due è il più intelligente?» «Davvero?» Il professore ridacchiava fra sé, come se tutto fosse talmente semplice e ovvio che era una vergogna starci a perdere su dal tempo. «Voi giudicate tutto dal tipo di cervello che gli esseri umani sono riusciti a sviluppare col tempo. Ma l'evoluzione segue diverse strade. Gli uccelli volano in un modo, i pipistrelli in un altro. La vita è piena di trucchi che mette a disposizione di tutti. Voi quanta parte di cervello credete di adoperare? Solo un quinto, sapete, secondo gli psicologi. E per quel che ne sanno loro, e ne sappiamo noi, l'80% del cervello non serve a niente. Tutti lo fanno funzionare a basso regime, salvo forse pochi nella storia. Leonardo da Vinci, per esempio, Archimede, Aristotele, Gauss, Galois, Einstein. Non li avevo mai sentiti nominare, salvo Einstein, ma non disse niente. Lui ne nominò qualcun altro, ma io ricordo solo questi. Poi disse «Quei piccoli rettili avevano cervelli minuscoli, forse grandi un quarto o anche meno del nostro, ma lo adoperavano tutto, fino all'ultimo pezzetto. Dalle ossa non si può capirlo, ma erano intelligenti, intelligenti come gli uomini, ed erano i padroni della terra». A questo punto, Gauss saltò su con un'obiezione che mi sembrò dovesse inchiodare il professore. Disse «Sentite, professore, se quelle lucertole erano così in gamba, come mai non si lasciarono dietro niente? Dove sono le loro città, le loro case e tutti quegli altri ammennicoli che troviamo nelle caverne come i coltelli di pietra e così via? Diavolo, se l'uomo dovesse sparire, pensate alla roba che si lascerebbe indietro. Non si potrebbe fare un chilometro senza imbattersi in una città, in una strada e così via». Ma il professore non era tipo da lasciarsi mettere con le spalle al muro. Anzi, senza fare una piega, disse «Voi continuate a giudicare le altre forme di vita secondo il metro umano. Noi costruiamo città, strade, aeroporti, eccetera, eccetera. E invece loro no. Loro seguivano altri sistemi. La loro vita aveva basi diverse dalle nostre. Non so cosa avessero al posto delle città e delle case, perché era troppo diverso. Esulava talmente dalla mia mentalità che non ne afferravo il concetto. Ma le armi? Ah, quelle no. Quelle erano come le nostre. Strano, vero? Per quello che ne so, è probabile che ci capiti tutti i giorni di inciampare nei loro resti senza che ce ne accorgiamo». Io cominciavo ad essere stufo. Non c'era modo di coglierlo in fallo. Più noi escogitavamo obiezioni acute, più diventava acuto anche lui. «Sentite un po', dissi. Come mai sapete tante cose? Siete vissuto insieme a quelle lucertole? Parlavano inglese? Oppure voi sapevate la loro lingua. Ditemi qualche parola in lucertolesco. Credo che cominciassi a vederci un po' rosso. Sapete com'è. Un tizio ti racconta cose che non puoi credere, tanto sono sballate e tu non hai modo di costringerlo a fargli ammettere che in mente». Ma il professore si limitò a riempire con la massima calma il suo bicchiere e disse «No, io non parlai e loro non parlavano. Mi fissavano con i loro occhi freddi, duri, fissi, occhi di serpente e sapevo cosa pensavano e sapevo che loro sapevano cosa pensavo io. Non chiedetemi come fosse possibile. Era così, questo è quanto. Sapevo che erano usciti a caccia e sapevo che non mi avrebbero lasciato andare». Noi lo guardammo in silenzio finché Reino gli domandò «E allora? Come riusciste a squagliarvela?» Fu facile. In cima alla collina passò di corsa un animale. Era lungo un tre metri circa, stretto e correva rasoterra. Le lucertole si misero in agitazione. Sentivo arrivarmela a ondate. Pareva che si fossero dimenticate di me da un momento all'altro e se ne andarono via. Io risali sulla macchina, tornai nel mio tempo e la distrussi. Un finale più moscio non l'avevo mai sentito. Joe fece un verso con la gola. «Beh, e cosa ne è stato dei dinosauri?» «Oh, non avete capito?» Mi pareva abbastanza chiaro. Furono le piccole lucertole intelligenti. Erano cacciatori per istinto e per scelta. La caccia era il loro unico passatempo. Non andavano a caccia per procurarsi il cibo, ma per divertirsi. E a questo modo spazzarono via tutti i dinosauri dalla faccia della terra? Tutti quelli che vivevano contemporaneamente a loro, è chiaro. Non lo credete possibile? Quanto tempo ci abbiamo messo noi per distruggere le mandrie di milioni di bisonti? Cos'è successo al dodo in pochi anni? Se ci mettessimo a dargli la caccia sul serio, quanto credete che durerebbero ancora i leoni, le tigri e le giraffe? Beh, all'epoca in cui vidi quelle lucertole, di selvaggina grossa, ne era rimasta poca. Non c'erano rettili che superassero i cinque metri o giù di lì. Tutti scomparsi. Quei piccoli demoni davano la caccia con accanimento ai superstiti e probabilmente in cuor loro rimpiangevano i bei tempi andati. Ci rimuginammo su in silenzio guardando le bottiglie vuote, tutti quei dinosauri grandi come case ammazzati dalle lucertole con la pistola. Così, per passatempo. Poi giù si chinò in avanti e chiese al professore scuotendolo amichevolmente per un braccio. Ehi, dite un po', professore, se le cose sono andate a questo modo, dove sono finite le lucertole con la pistola? Non siete mai tornato indietro a vedere? Il professore alzò gli occhi con aria desolata come se si fosse sperduto. Non avete ancora capito? Cominciava già da allora. Glielo lessi negli occhi. La selvaggina grossa scarseggiava e loro non avevano più modo di divertirsi. E così, cosa vi aspettate che facessero? Si gettarono sull'altra selvaggina, quella più grossa e pericolosa di tutte, e allora sì che si divertirono. E la caccia durò fino alla fine. Quale selvaggina? chiese lei. Non ci era ancora arrivato lui, mentre io e Joe avevamo capito. Loro stessi, disse il professore. Sterminati gli altri, cominciarono a uccidersi fra di loro, finché non ne rimase vivo nessuno. Noi tornammo a pensare a quei dinosauri grossi come case fatti fuori dalle lucertole con la pistola. Poi pensammo alle lucertolette e a come avevano continuato a sparare anche quando non potevano farlo che contro i propri simili. Povere stupide lucertole, disse Joe. Già, disse lei. Povere pazze lucertole. Quello che successe poi ci fece venire ai brividi, perché il professore si alzò di scatto con gli occhi che gli uscivano dalle orbite e gridò, maledetti cretini, cosa ve ne state qua a lacrimare sulla sorte dei rettili morti da milioni di anni? Essi erano le prime creature intelligenti comparse sulla terra e si estinsero. Chiuso, finito, non ci sono più, ma noi siamo la seconda forma di vita intelligente e come diavolo credete che ci estingueremo noi? Spinse via la sedia e si avviò alla porta, ma prima di uscire si voltò e disse, povera stupida umanità, avanti, piangete un po' su questo.